In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe, prima di parlare delle condizioni meteo che caratterizzeranno questo fine settimana, puoi aggiornare i nostri telespettatori a casa sulla situazione attuale del tempo? La Campania è interessata da un campo di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato, specie sui colli e sui monti. Sulle pianure, nelle vallate interne invece, durante la notte e al primo mattino, registriamo la formazione di dense foschie e locali banchi di nebbia che andranno diradandosi nel corso della giornata. Alta pressione che tra sabato e domenica subirà un parziale cedimento in quota a causa del passaggio di una modesta goccia fredda proveniente dai Balcani. E per quanto riguarda le giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio, come si svilupperà il tempo? Per domani, sabato 11 gennaio, avremo cielo da poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte lungo la dorsale appenninica. Durante la notte e al primo mattino, dense foschie interesseranno le vallate e pianure interne, dove saranno possibili estese e brinate, temperature lieve e diminuzione nei valori massimi, stazionari alle minime della notte, venti deboli da nord-est e mare poco mosso. Per domenica 12, cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti anche consistenti, in prossimità dei rilievi, dove nel corso della giornata non si esclude la possibilità di qualche isolato piovasco, temperature in ulteriore lieve diminuzione nei valori massimi, in aumento le minime della notte nelle aree vallive, venti moderati da nord-est e mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per quanto riguarda invece la tendenza della prossima settimana, che cosa puoi dirci? Lunedì non sono previsti cambiamenti significativi, mentre da martedì 14 l'alta pressione guadagnerà terreno verso Levante, riportando condizioni di tempo stabile, anche se ritorneranno le foschie e le nebbie sulle pianure vallate interne. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori massimi, determinando un'accentuata escursione termica giornaliera. Questa fase di bel tempo è destinata a durare almeno fino a venerdì 17 gennaio, ma, per ulteriori dettagli, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it